invito su questo palco Beppe Grillo, Davide Casaleggio e il nostro notaio Valerio Tacchini per quella che è il momento finale di questa meravigliosa serata. E' poco, per quello che abbiamo fatto per voi è poco. Anfami, Anfamoni, sette comuni, il comune di Roma e adesso forse anche la regione. E' una meraviglia, è il momento veramente di prendere in considerazione, di venire tutti a stare in Liguria. E' bellissima questa cosa qua. Allora, volevo dire due parole, se mi fate per esempio, ma bassissima, per entrare in termosfera, un basso, basso, bassissimo, devo parlare. Voglio innanzitutto scusarmi con una persona che non è più tra noi, che ieri è stato celebrato non nella sua città ma a Torino. Piano, piano, no, no, non l'hai capito. Piano, sottofondo, come foste abusivi. Piano. Ecco, siete abusivi. Avete preso anche un cachet, spero di no. Ah, perfetto. Allora, sempre più piano. Allora, io dovevo andare a Torino, è andato a Casaleggio, dovevo andare poi per ragioni familiari che si sono risolte, fortunatamente bene sono qua, anche per questo. Ed era un modo di ringraziare quello che è stato per noi, per il Movimento, gli ultimi anni, uno dei più grandi poeti, letterati, persone che io ho conosciuto nella mia vita, che era Dario Fo. Ieri sera non ci sono potuto andare, vorrei ringraziarlo stasera un attimo per suo figlio, perché io ho avuto un'esperienza straordinaria. Quando è morto io ero lì, ed era in un ospedale anche brutto, popolare, brutto, con un primario anziano che non mi voleva far entrare, c'era il figlio, e lui voleva che io andassi lì, e c'era suo figlio, c'era Jacopo. Io entro e ho visto il protocollo della morte, un uomo di 90 anni, dove gli facevano dei prelievi, dove si muore in posti incredibili, dove una mente così, lui vedeva cose, dipingeva con le mani, dipingeva, e ormai un po' così evanescente, percepiva delle voci, percepiva me, allora mi aveva regalato un quadro, e stava, era proprio agli sgoccioli, mi aveva regalato un quadro, allora io non ho resistito, sono andato lì vicino, all'orecchio e ho detto, Dario, Dario, dimmi un po', ma questo quadro che mi hai dato, secondo te, se te ne vai, aumenta di valore. E lui è scoppiato nella più grande risata, l'ultima risata della sua vita, e se ne è andato ridendo, come ha vissuto. questo ci tenevo a dirlo, perché è stata una mia soddisfazione. Quello che abbiamo fatto con lui, che continuiamo a fare con lui, con suo padre, che abbiamo fatto, è nato tutto da momenti così, momenti che non ci entravamo, io e suo padre, eravamo due mondi diversi, lui un manager, che arrivava dall'Olivetti, io un buffone, un comico, cioè due mondi completamente diversi, e ci siamo trovati, ci siamo trovati, e con Dario abbiamo fatto un libro, ed era bellissimo vedere suo padre Dario parlare, c'è un mondo, che sembravano in contrasto, e invece si sono capiti subito, perché Gianroberto era uno storico, come Dario, quindi storicizzava sempre le notizie, che scriveva, le storicizzava, e poi io ero lì che li guardavo, vedevo queste due grandi personalità a confronto, che era bellissimo, è dato un libro è nato, e io ero lì che mi inserivo ogni tanto, bleffando, bleffando, ho sempre bleffato nella mia vita, ve lo devo dire, io ho bleffato, io vi ho ingannato tutti, stai zitto, io vi ho ingannato tutti, il movimento è nato, perché io stavo sveglio di notte, perché non digerivo, perché se digerivo e dormivo, non nasceva un cazzo, altro che movimento, vi ho ingannato dal primo momento, a un famoni, e allora, e allora, vedere queste due personalità, e poi con suo padre parlavamo di tutto, lui era un fan di Tex Wheeler, se lo ricordi, parlava di Tex, io invece ero un fan del grande black, parlavamo di fantascienza, di urania, parlavamo di tutto, ed è nato questo detonatore del vaffanculo, è nato un giorno così, abbiamo detonato il nostro diritto al grido, il diritto al grido è stato bellissimo, il primo videio, il secondo videio, il terzo videio, che ho pagato per metà, io, maledetti, e allora, ed è stato bellissimo girare, vedere ogni piazza, che aumentava, 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 si sentiva una forza, mi sentivo dentro, una forza data da voi, dalla prima generazione, del primo videio, che non poteva essere arrestata, forse l'abbiamo persa un po' di questa forza, forse la seconda generazione, ha vissuto un po' sulla prima, oggi abbiamo gli attivisti, che non sono consenzienti, gli attivisti, che non simpatizzanti, anche ci sono gli attivisti non simpatizzanti, ne ho preso uno per il bavero, gli ho detto ma che cazzo vuol dire, che non sei simpatizzanti, no, no, mi ha detto io, io approvo tutto il programma, ma mi stai sui coglioni, vecchia battuta, anche questo vi sto fregando di nuovo, io non sono venuto qua, a fare un monologo di mestiere, dobbiamo fare una grande proposta, con l'improbabile notaio che abbiamo, è un notaio vero, con uno studio vero, con delle idee meravigliose, come dovrebbe essere un notaio, facevo quella battuta, i notai sono persone vive, circondate da Mogano, che cosa fate, non l'ha capito, dai, ha un fame, non capite, qua tutta ora, il mortaccio, andiamo, andiamo, se fa certa, com'è, se famo certa, com'è, cosa dite? famo una certa, famo una certa, di che cazzo state dicendo? Famo una certa, famo una certa, e la bacchia, le buone, addio, altruccio, andiamo a mangiare altrucido, andiamo dallo spezza pollice, e ricercato, ma come cazzo parlate, ma come facciamo a fare una rivoluzione, con della gente che parla così? Casaleggio parla perfettamente inglese, è di madrelingua inglese, allora, è bellissima staserata, perché se noi abbiamo sette, otto, sette comuni nel Lazio, Roma, Roma, Roma con una sindachina, l'avete vista, è una sindachina bella, minuta, ma potente, minuta e potente, dove so, è questa la grande forza, non era così affatto, allora io, non gliel'ho detto, ma gliel'ho fatto tre pollice, non gliel'ho detto, beh, vedi, me l'ha detto il mio assicuratore, fai una pollice, beh, ma gestire una città come Roma, è, 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 voi non sapete che cosa ho visto io, una città che ha 8700 chilometri di strade, gestire, c'è sette volte Milano, con una densità rara, c'è poca gente a chilometro quadrato, quindi devi portare strutture per poca gente, che costano molto, è una città che ha 60, aveva 60 chilometri di faldoni, il raccordo anurale di faldoni, io dico, tirate fuori i faldoni, i faldoni di carta, la digitalizzazione, parlano in televisione, di digitalizzare i comuni, avevano 60 chilometri di faldoni, e ho detto, tirateli fuori, facciamoli vedere, mi ci metto in mezzo, ci nuotiamo dentro, e invece, invece cosa hanno fatto, erano nei sottofondi, sono stati allagati dei sottofondi, e poi, sono stati resi inaccessibili, allora, quando tu devi, devi combattere con della gente che è dopata, noi stiamo combattendo con della gente dopata, noi non ci dopiamo, benissimo, vincono perché sono dopati, e chi se ne frega, noi andremo verso il nostro obiettivo, e noi vinceremo, e se vinci da non dopato dei dopati, la vittoria è doppia, ma forse non vinceremo, forse non vinceremo, forse chiederemo aiuto al trucido, non lo so, forse, forse quello che succederà, succederà, però, però, sento, sento, nelle mie farneticazioni notturne, i miei pensieri, che noi, che questa gente, anche qua, vogliono fare una speculazione, ma non si dice neanche, non la chiamano neanche speculazione, un milione e trecentomila, metri cubi, ma, nella loro ottica, guardate questi alberi, ma che cazzo servono gli alberi, sono lì fermi, quando non c'è il sole, non fanno neanche ombra, allora, fare dei supermercati, fare dei posteggi, loro hanno, la loro filosofia, non capiscono, perché il loro concetto, la loro cultura, è il calcestruzzo, è costruire metri cubi, sono ancorati al vecchio mondo, e non si discostano da lì, hanno queste vecchie idee, non lo fanno apposta, eccolo, sì, è qui, devi venire, sì, buttaci giù un po' di gasolio del tuo, e allora, e allora, noi invece stiamo come dei rabdomanti, stiamo andando verso qualcosa, io sto andando verso qualcosa, tutte le mattine mi alzo e vado verso il mio dubbio quotidiano, come voi andate in ufficio, io non lo so dove stiamo andando, non lo so, l'ho fatto io e suo padre il movimento, non lo sappiamo, però so una cosa, che sta arrivando un altro mondo, sta arrivando un altro modo di pensare, sta arrivando un altro modo di costruire le cose, sta arrivando un altro modo di vedere la cultura, i flussi, guardate il mondo, città-stato, stiamo tornando alle grandi città, che governano sul territorio, così, Londra, Londra, quando gli hanno detto della Brexit, i londinesi hanno detto, ma non fateci girare i coglioni, perché se usciamo noi della Gran Bretagna, è finito tutto, perché siamo noi la Gran Bretagna, la City, abbiamo il 90% dei soldi, e prestiamo i soldi a tutte le città, Sheffield, Manchester, Liverpool, Dubai, Dubai, un grattacielo che fa 75 milioni all'anno di turisti, un grattacielo, città che raddoppiano la popolazione ogni 10 anni, 150 etnie, 250 religioni, stiamo andando verso questa trasformazione, questa frammentazione nel mondo, gli stati, le nazioni, non ci sono più, e allora noi parliamo di che cosa? Lo Stato, la governabilità, ma uno Stato non sa come deve spendere i soldi in una periferia di Roma, non lo sa lo Stato, non c'è lo Stato, ci siamo noi, borgatari, ci siamo noi dentro le città, dentro i quartieri, che sappiamo cosa succede lì, e non abbiamo bisogno se non ci tolgono le risorse dello Stato. E ora signori, è ora la presentazione di un grande, una persona che ha poche parole, le dice molto poche, però, abbiamo fatto il viaggio insieme, siamo stati insieme in viaggio, abbiamo fatto la macchina per venire qua, e tre volte mi sembra abbia detto interiorizza.